buongiorno sono fabio piotti all'interno da ditta fratelli piotti vi spiego quello che andremo a vedere in questo video in questo video vi mostro questa postazione dove l'operatore prende fucile dopo l'incassatura e praticamente lo farà completamente funzionare in bianco metterà i grilletti o monogrillo verificare gli hector scatti movimento fa fare praticamente tutto funzionamento perfetto come fucile finito però a questo punto di lavorazione quindi detto montaggio in bianco buona visione è stato un po' di più l'unica cosa difficoltà l'unica cosa 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 l'unica cosa 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 l'unica cosa 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 il sistema di fare Grazie. 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 Grazie.